Luciano quanto hai aspettato questo momento? Lo sapete tutti, tre finali di seguito, come il Bayern ci diceva, come il Bayern alla terza l'abbiamo finalmente... Soprattutto la grande rivincita dopo l'amarezza dello scorzorano, la grande rivincita dopo l'amarezza dello scorzorano, Ma adesso non mi sembra il caso di pensare Beh sì, hai detto benissimo, questo era uno dei sassolini che mi volevo togliere dalle scarpe Direi che ci avete messo il 150% di voi Loro sicuramente sono più forti di noi, sono una squadra fortissima con degli elementi Dei singoli molto molto forti, superiori a noi chiaramente Noi abbiamo interpretato la partita sulla grinta, sulla voglia, sulla corsa, sulla determinazione Noi gliela fanno, non ce la fanno Come avete visto tutti È in anza ancora Come avete visto tutti Ma gli ultimi quattro minuti quanto sei erano lunghi? Sport work! Morio, morio, morio Comunque... Adesso a Serbia Adesso a Serbia, vabbè Sport work! Insieme a loro, tra l'altro, insieme a loro Ma l'obiettivo era soprattutto finalmente vincere questa Quest'anno, bravo, mi hai tolto forse le parole di bocca Volevo dire, è stata una soddisfazione triplice Perché chiaramente con tre campionati Potremmo dire... Esatto, quest'anno era a livello regionale Bravo, potremmo dire campioni regionali Perché non ci sono altri campionati di calcio a sette E abbiamo incontrato tutte le prime dei gironi E le abbiamo guattute tutte Quindi... Meritatissimo, meritatissimo Una finale perfetta proprio Ci dovrebbe essere Va bene, la preparazione quando inizia? Agosto? La preparazione in spiaggia sotto l'ombrello tranquilli No, no, ma il cervello deve fare bella figura Ma con questa voglia, con questa squadra, questa grinta Ci proveremo, ci proveremo Va bene, allora buoni festeggiamenti Grazie Grazie, grazie Scusa Un grazie sicuramente a tutti i ragazzi, a tutto il gruppo A quelli che hanno giocato meno Che sono stati comunque sempre presenti Questo è uno, Matteo, Corriò, Rinaldi Quelli che hanno giocato meno Però sono stati sempre presenti E quello è l'importante Perché poi, quando servono come stasera, ci sono E gli altri, magari se so, hanno giocato di più Se so, tolti più soddisfazioni Loro, con la pazienza e la presenza Ci hanno aiutato a vincere Il gruppo è stato fondamentale Il gruppo è stato fondamentale Pochi, ma buoni Grazie a voi